Musica Oggi alla nostra ricerca delle 100 fattorie romane proveremo a cercare il sito di Fossa Nera A che è uno dei siti più importanti perché si parla di azienda vinicola di epoca romana beh, credo che non sarà così semplice Vi assicuriamo solo la nostra perseveranza ci ha fatto trovare il sito di Fossa Nera A è un sito ovviamente dove si vede qualcosa, le tracce di queste fattorie romane ma la strada di accesso è veramente irriguardosa per un sito che ha un'importanza archeologica come questo è balta, scarca segnalazione, sempre andare ad occhio e se vi va Non è difficile capire che comunque anche in questo sito di Fossa Nera A quello che vediamo che è in superficie, ovvero queste pietre non sono certamente di origine romana perché qua, come si può vedere c'è un uso moderno dell'edilizia e quindi non poteva essere di origine romana in pratica anche in questo caso si è ricoperto quello che è l'originale scavo Domani concluderemo la nostra inchiesta visitando il sito di Fossa Nera B ma vi assicuriamo ci saranno delle sorprese Grazie a tutti Grazie a tutti